Buongiorno, io sono Borsani di Geomax International. Geomax è una realtà nel mondo industriale appartenente al gruppo Hexagon, produttrice di strumentazione topografica, stazioni totali, GPS e laser scanner. Siamo presenti alla fiera di restauro ormai da diversi anni. Ne teniamo che questa fiera, questo momento di incontro per un'industria sia assolutamente importante in quanto la sinergia tra le applicazioni nel mondo del restauro, nel mondo legato all'università con il mondo più industriale di distribuzione della strumentazione, è una sinergia molto forte, stabilita ormai da anni con il Diaprem, con il professor Valzani che porteremo sicuramente avanti nel tempo. Abbiamo uno spazio all'interno della mostra in cui faremo anche vedere quali sono state queste sinergie tra la nostra azienda e il Diaprem e sono sicuro, sono certo che anche nei prossimi anni questo momento sarà un momento importante.